Ciao, sono Leonardo, il tuo consulente doping roll. Il tuo magazziniere ti stressa dalla mattina alla sera perché deve perdere tempo a causa del film estensibile che continua a rompersi? Da oggi puoi risolvere il problema con Zeresfi, il film estensibile fatto con delle fibre di rincorso nella lunghezza che non si rompono durante lo snotolamento nel caso questo si perfori. Quali sono i vantaggi di Zeresfi? Non si strappa, il tuo magazziniere lavorerà più comodamente e avrà meno motivi per lamentarsi delle rotture del film. La particolare tecnologia con cui è fatto il film Zeresfi evita le rotture quando ci sono delle perforazioni durante lo snotolamento. Questa è la prova che normalmente il cliente ci chiede di fare per provare la resistenza del film estensibile. Questo è un normale film estensibile. Avete visto che il normale film estensibile si rompe appena viene forato. Adesso proviamo a fare la stessa prova con il film Zeresfi. Lo srotoliamo, lo tendiamo e proviamo a forarlo. Io continuo a tirare. Il foro rimane confinato all'interno delle fibre. Il magazziniere lavorerà meglio, si affaticherà di meno e non dovrà ricominciare il suo lavoro perché il film si è strappato. Cosa aspetti allora? Prova senza impegno una scatola di film estensibile manuale rinforzato Zeresfi con la garanzia soddisfatti o rimborsati. Il tuo magazziniere proverà l'estensibile e se non gli piace ti rimborseremo tutto il film che avrai avanzato. Cosa aspetti allora? Fai felice il tuo magazziniere e inizia a farlo lavorare senza stress. Chiama subito al 011 273 5591 e ordina la tua scatola di prova. Oppure se preferisci clicca il link sottostante e ordina la tua scatola di prova.